Antonella Fiordelisi attacca la madre dopo l'uscita GF VIP, grazie, mi hai fatta uscire. Antonella Fiordelisi è stata incredibilmente eliminata dal televoto dopo l'appello della madre su Instagram, ha usato il profilo della figlia da 1.2 milioni di follower, e la lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi. Alfonso Signorini le fa leggere l'appello della madre e così scopre il motivo per cui è stata eliminata. Questo svela, inoltre, che i drammi che stava vivendo nei giorni scorsi erano forse frutto di una strategia perché quando ha preso dell'appello della madre, la reazione di Antonella Fiordelisi è stata molto cinica, è stato tutto controproducente. Era meglio che mi stava ferma e zitta. E poi alla madre, grazie a mamma, mi hai fatta uscire. Alfonso Signorini le fa quindi vedere le azioni della madre che hanno in qualche modo influenzato il voto. Perché le sue azioni sono state riprese da tutti i quotidiani, tua mamma ha invitato tutti i tuoi fan a non salvarti. Ora ti faccio leggere quello che lei ha iscritto Antonella legge il messaggio. Vedere mia figlia, dopo la puntata di ieri, che chiede ai fan di uscire, evidentemente le hanno detto che se esce di sua spontanea volontà da gioco deve pagare una grossa penale. Mi ha portata, da mamma, a fare un appello ai suoi fan per non salvarla al televoto di lunedì. Ah! Grazie mamma, mi hai fatto uscire. Antonella Fiordelisi ci è rimasta molto male perché ha capito bene come è andata, ma se l'ha fatto dal mio profilo è normale che sia finita così. Ha messo laconicamente. Poi racconta il precedente. Tieni presente che quando avevo 18 anni già una volta lei mi disse di non accettare un provino all'isola dei famosi perché lei stava male. Aveva l'ansia. Questa cosa non la doveva fare perché sono cose mie, sono io che posso resistere. E sto male io, quindi non si è comportata bene, anche se aveva le sue buone ragioni. Grazie. Grazie.